buona serata a tutti ebbene questo è l'ultimissimo video di oggi ai noi purtroppo il nostro tenista con nazionale marco rai ha dovuto arrendersi in un'ora e 31 minuti contro deckworth numero tp 96 mentre il nostro marco ora numero tp 174 per 2 a 0 con i parziali 6 3 7 6 7 4 però la vittoria di deckworth era favorita 1 e 53 comunque complimenti a marco rai per il suo percorso noi ci vediamo domani con altri video la prossima ciao